ciao ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube vediamoci insieme questo nuovo video seguitemi allora ho trovato questa farina in un forno l'avevo già usata un po di tempo fa dell'azienda agricola di pietro macinata a pietra un mulino che macina le farine e le coltiva anche quindi coltivano grani antichi e macinano a pietra quindi voglio farci questo pane l'ho soltanto tagliata con un po di zero allora vado in planetaria con la foglia l'acqua adesso vediamo alla fine quanta ne tira ne ho messa 350 ma di solito queste farine non assorbono molta molta acqua quindi con la foglia ci metto un po di farina per fare un autolisi un autolisi breve quindi faccio girare faccio bagnare bene tutta la farina con quasi tutta l'acqua ne lascerò in circa 100 100 grammi adesso spengo e copro copro con un telo e lascio riposare mappena 15 minuti non serve di più anzi nemmeno servirebbe perché con questo caldo che sta facendo l'autolisi si potrebbe anche omettere ok passato passato il tempo metto il gancio tolgo la foglia e metto il gancio naturalmente questo impasto si potrebbe fare tranquillamente a mano ogni tanto alterno però il pane anche a mano viene benissimo allora butto giù avete visto un po d'acqua e metto il mio licoli licoli sta intorno ai 65 grammi più o meno è la dose giusta ma volendo potete usare neanche di meno quando fa caldo caldo e anche se ne mettiamo 50 grammi ad esempio il risultato non dovrebbe cambiare allora metto piano piano il resto dell'acqua e mi regolo controllo mano a mano dopo aver girato un pochino aggiungo il sale e faccio girare vedete continuo a mettere acqua piano piano però non credo la userò tutta poi metto i grammi giusti una volta girato per 10 minuti faccio riposare l'impasto per 15 minuti e poi inizio a fare due giri di pieghe in ciodola come vedete questi passaggi sono i soliti passaggi standard che si fanno normalmente per fare il pane quindi ci può stare qualche piccolo cambiamento ma i passaggi sono quelli ok finiti i giri e lo lascio a lievitare e lo lascio 45 ore questo dipende molto dalla temperatura che avete in casa dalla stagione in cui fate il pane mi sembra di ripetere sempre le stesse cose però d'altra parte è così una volta passato una volta lievitato non è che deve raddoppiare deve lievitare un pochino e facciamo gli altri giri di pieghe le pieghe a tre ok e facendo i giri di pieghe come sapete bisogna lasciare mezz'ora coperto 30 minuti e poi si procede all'altro giro io qui ne ho fatti soltanto due ma anche tre volendo se vedete non è lievitato tanto bene potete fare anche tre giri ok adesso passiamo alla formatura allora vi dico queste cose perché mettendo le foto sul gruppo sapete io sono iscritta al gruppo nuvola un amore di vasta madre di rosa di fonso e come metto le foto del pane mi chiedete subito la ricetta però che succede a me non mi va di mettere che so metto su 500 di farina di mettere soltanto le dosi perché per fare il pane ci sono tante tante varianti per far riuscire il pane è bello intanto vedete ho fatto la formatura e metto nel cestino dipende anche dalla farina che usate certo questa è una farina buonissima penso che il pane verrà bene dipende da tanti fattori dalla temperatura dall'umidità dell'aria da piccole cose dalla cottura anche la cottura importante quindi invece della ricetta preferisco mettere il video ed ecco qua l'impasto dopo 4-5 ore vedete è aumentato di volume io penso che a questo punto si può infornare nel frattempo mia nipote mi ha fatto lunghe scusatemi ho già acceso il forno il forno deve stare a temperatura deve essere proprio caldo caldo quindi a 250 e ribalto così come faccio di solito su carta forno sopra la pala così poi vado a far scivolare nel forno metto la semola così il mio forno ha il vapore automatico e quindi mando due spruzzi di vapore all'inizio e basta però se non avete il forno automatico spruzzate con uno spruzzino oppure buttate mettete un pentolino come fate come siete soliti fare un piccolo disegnino non sono molto brava a fare i disegnini vedete l'impasto è morbidissimo alla fine poi ho messo all'incirca 330 grammi di acqua ecco qua il mio filone vado ad infornare qui vi metto le descrizioni però regolatevi naturalmente in base al vostro forno non tutti i forni sono uguali quindi vedete com'è cresciuto durante i 20 minuti sta crescendo bene a noi piace molto cotto bello croccante però se a voi piace meno cotto abbassate prima la temperatura lo faccio lo metto a raffreddare almeno un paio d'ore allora eccolo qua vedete come vedete è molto bello è profumatissimo questa farina veramente profumata molto buona allora ci sono dei buchi di troppo però non importa forse non ho chiuso bene però io direi che è bellissimo adesso lo taglio ritornando al discorso di prima cioè come vedete il pane viene sempre diverso magari avrò fatto anche qualche altro video con la farina tipo 2 mi è venuto diverso questo è venuto così scusate vi faccio sentire la croccantezza vedete fuori è molto croccante però dentro è morbido ma anche perché ancora leggermente tiepido dicevo non metto sul gruppo non metto le dosi perché si potrei anche mettere ma non è perché voi copiate le dosi e il pane viene così bisogna seguire i rassaggi con il pane non è una ricetta non stiamo facendo gli spaghetti una ricetta di cucina diciamo scusatemi adesso chiudo la parentesi bene io direi che è molto bello questo pane è buono penso che la riprenderò questa questa farina per usarla ancora se la trovo perché non è facile trovarla però credo si possa ordinare anche online bene amici vi invito a condividere il video a lasciare un like a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao